ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video io sono giuliano e oggi andremo a vedere i nuovissimi john deere 6m 7r 8rx e 8r infatti il giorno 30 novembre ho preso la macchina direzione orzi nuovi per andare a visitare il concessionario agribertocchi e vedere questi nuovi john deere vi informo già che nel video ci potrebbero essere inesattezze perché sono state tutte opinioni a caldo non ho detto che sarei andato nella sede da agribertocchi perché tanto non avrebbe avuto senso considerando che non mi avete mai visto in faccia detto questo buona visione e godetevi il video ok siamo a bordo del nuovo john deere 8rx da agribertocchi appunto come potete vedere allora da parte che il sedile è molto più comodo rispetto al mio 8r visibilità sempre ottima con questo muso che si va ad abbassare verso il davanti sterzo in pelle penso sia un optional questo ma magari chiederemo a qualche venditore qua abbiamo sempre frizione freni col blocco acceleratore e poggia piedi che sono stati aggiunti anche per la funzione di rotazione che in questo momento non trovo magari riusciamo a trovarla no non riusciamo a trovarla o questo è questo sì è questo ragazzi bene appunto c'è il poggia piedi una vera figata display quello più grosso della categoria nuovo command arma con cinque distributori a bordo di questa macchina i joystick per il sollevatore frontale come al solito è diverso dal mio perché anche delle funzioni aggiuntive sopra i tasti sollevatore posteriore vi ho spiegato anche i comandi in un video sul mio canale ragazzi che vi lascio in alto a destra qua il cambio dovrebbe essere appunto marcia più marcia meno quindi dovrebbe essere le 23 o le 24 correggerò video acceleratore funzione eco presa di forza questo non so cosa sia meglio non schiacciarlo che si sa mai che spacco tutto qui c'è un bel portello per quelli che sono i cavi in posteriore bocchette dell'aria dappertutto un po cambiate rispetto al solito portabicchieri come sul mio e così via lì è stato attaccato un green star appunto vedete con ricevitore starfire 6000 sempre il display montante qua abbiamo una bella novità appunto il controllo come sul mio per l'unotto e regolazione degli specchietti e poi abbiamo la nuova radio con l'infotainment volume bluetooth apple carplay se non sbaglio android auto forse anche comunque apple è sicuro le varie casse tendina qua tendina qua sicuramente bello bello ragazzi qua un portoggetti cioè insomma vedete ragazzi so già aprire e fare tutto dovrei comprarmelo mi so bello molto bello qua una presa a 220 ragazzi si poteva avere come optional anche sul mio qua c'è proprio una presa italiana qua il portoggetti anzi è un frigo ragazzi questo lo vorrei anche sul mio ci sarebbe lo spazio qua ma non me l'hanno non c'era negli option qua abbiamo anche i sedili in pelle ragazzi molto molto bello mamma mia inversore che ha un po cambiato non nelle funzioni ma come forma avanti indietro parcheggio verso il basso n nella posizione di folle frecce è diventato un po più auto potremmo dire questo 8r la velocità dei dei terzi cristalli è stata messa su questo tasto molto bello adesso andiamo a vedere anche sia il 6m che lì l'8r che lì e il 7 magari se riesco a salirci perché c'è tanta tanta gente qua da agri bertocchi qua la maniglia per chiudere la porta stando seduti per fare leva molto molto bella andiamo a vedere la sale perché è una cosa che mi incuriosiva in questo 8r x infatti ragazzi qua è fisso c'è questo longarone in acciaio per sterzare però voglio chiedere il perché qua abbiamo la nuova seminatrice John Deere cioè nuova è già uscita seminatrice di precisione molto molto interessante però volevo chiedere della sale fisso qua fuori abbiamo un sacco di macchine ragazzi provate a guardare macchine a perdita d'occhio qua perché è stato scelto la sale fisso sull'RX e non l'ILS non lo fanno non lo fanno è tutto ammortizzato il cingolo insomma comunque viene già ammortizzato qua e non lo fanno ammortizzato perché poi è già la cabina ammortizzata come è sospesa la cabina? l'hai ammortizzata sui quattro punti? attivo, passivo, cioè sono solo molle o? no, non è attivo non è come l'altro e tra l'altro dietro non c'è la molla quello lì è il longarone per ripartire appunto lo sterzo la barra dello sterzo bello 410 cavalli nominali sì sì, nominale 410 PTO fa un po' di più ovviamente con l'extra power ancora o? con l'extra potenza comincia a inserirsi l'1,5 all'ora, 19 all'ora e la potenza massima ce l'hai inserita tutta praticamente trasmissione su questo? questo hai su l'E23 l'E23 se poi vuoi impostarti sulla serie 9RX comincia a vedere se il power le 16 marce l'autopower qua non si può avere, c'è l'autopower command pro non si può avere vabbè, per gestire una potenza del genere esatto, è sempre preferibile infatti anche sulla serie 9000 non lo montano le VT e montano sempre il channel meccanico ma anche sull'8400R della scorsa serie quello che c'è lì di fuori, l'8400 che è il massimo che puoi sprigionare meccanico poi sull'8370 ce l'hai VT certo grazie mille bene, abbiamo avuto le nostre informazioni qua, 7R con assale sospeso tradizionale come nelle scorse serie stacca batteria, incorporato diamo un'occhiata magari anche sullevatori appunto, di questo 7R poi c'è la vaschettina che a me manca per raccogliere l'olio dei distributori che cade terzo punto idraulico anche qua tutti sul 7R e l'8R ma l'8RX non se lo filano molti non sarà mica un serbatoio dell'urea quella non è che devo fare un'altra domanda adesso ma mi informerò comunque la cabina come ha detto appunto il tecnico il venditore è sospesa appunto su 4 punti in gomma 4 molle 0.5 distributori come avevamo visto questo 8RX è ammortizzato tramite questi soffietti lì ci dovrebbe essere il tenditore appunto il sollevatore che a mio parere si è un po' come si può dire è cambiata la marca non è più un Dagenhardt ma secondo me lo vedo meno robusto probabilmente hanno scelto questa marca perché aveva tagli un po' più squarrati come appunto il muso del nuovo 8RX proviamo a salire sul 7R se si vibra se non c'è la fila va c'è l'urea si sempre sedini in pelle tappetino tappetino in tessuto meglio di no meglio gomma Command Pro cambio Command Pro sempre sollevatore anteriore con le funzioni come abbiamo visto là PTO diciamo che gli allestimenti come sulla vecchia serie sono molto molto uguali su tutte le serie appunto appoggiapiedi qua c'è anche un portoggetti no invece è la scatola dei fusibili ragazzi forse quella non dovevo aprirla questo qua c'è una bocchetta per sbrinare sbrinare insomma togliere la condensa dall'unotto questa presa come abbiamo visto sull'altro mi piace molto perché prima io sul mio ce l'ho tagliato sul vetro invece qua insomma molto meglio farli passare da qua in una presa ben coperta display nuovo sempre radio infotainment uguali prese usb per la ricarica bello abbiamo forse una colonna centrale dello sterzo un po' diversa dopo andiamo a vedere sull'8R normale può essere se funzioni bene o male blocchetto per la chiave bene bene adesso possiamo andare sull'8R vedete che si regola da solo veramente sedile ancora più migliorato così prima seduta mi sembra anche più comodo molto molto bello la pelle certo in agricoltura non non è il massimo per quando si sporca ok molto molto bello dopo vorrei farvi vedere anche il 6M vedete ragazzi anche in mezzo alla gente parlo come se niente fosse quindi sfatiamo il mito che parlo solo in campo abbiamo la sale hills per fortuna perché mi sa che è molto meglio la sale hills anche qua in pelle frigo allestimenti molto molto simili eh cavolo a me ragazzi mamma mia sei alto vedete ragazzi sono alto 1,70 ma qua hanno regolato il 6L per uno di due metri eh ragazzi molto molto bello molto bello veramente sapete che secondo me con questa forma però hanno un po' lesinato sulla visibilità insomma qualcosina l'abbiamo perso secondo me sopra sempre display montante se vi chiedete cos'è questa la mia borsa con la reflex potete vedere tutte le foto su instagram mi raccomando command pro anche qua ma probabilmente è una è un 3,40 questo qua questo qua è un 3,40 quindi può montare il command pro fino al 3,70 appunto da quello che diceva il venditore il responsabile commerciale appunto qua abbiamo il solito allestimento tutto uguale su tutte le serie molto bello tutti equipaggiati di starfire 6000 con con lo schermo mi piacerebbe un po' più approfondire la storia appunto di questo command pro perché non l'ho mai provato in vita mia qua infotainment scomparti portoggetti tutti uguali c'è anche una luce di servizio qua sopra sempre lo sportellino che mi piace bello bello ragazzi tendine dappertutto queste qua valgono 400 euro l'una bello ragazzi diciamo che dal vivo mi ha convinto sicuramente di più ma adesso magari torniamo a casa davanti al nostro 8R lo confrontiamo e dico cosa ne penso adesso vorrei andare anche sul 6M se riesco si forse è libero ragazzi qua tiriamo su no le colonne ragazzi mi sbagliavo sono sempre uguali su sia 7R 8R che 8RX eh leggermente più piccolino delle altre due macchine che abbiamo visto in precedenza è anche un po' più spartano allora eh però ragazzi caricatore frontale visibilità ne guadagna tanto con questo muso con questo muso che va verso il basso ragazzi veramente tanta tanta roba mamma mia non pensavo bello bello peccato per la sole sospeso se avessero messo un ILS sarebbe ancora più comodo display sul montante molto bello qua in teoria abbiamo il Command I8 se non sbaglio ma magari faccio correzioni a video perché è tutto a caldo qua abbiamo la figata del controllo del sollevatore del caricatore o sollevatore frontale sopra appunto qua il bracciolo quindi entriamo con la mano come sul mio 8R possiamo comandare tutte le varie funzioni questi tasti per esempio premo il 5 e va tutto basso il sollevatore premo il 6 va tutto alto per operazioni di caricamento granaglie terra e così via è veramente comodo bellino anche questo complimenti bello diciamo che non c'è un display le informazioni verranno sicuramente riportate lì e dopo c'è sempre lo starfire come gps per i fumatori saranno contenti appunto per la possibilità di aprire i finestrini laterali anche quello no quello superiore no c'è solo il parasole in teoria bello bello ragazzi mi piace visibilità anteriore veramente complimenti cavolo guardate adesso la gopro non rende però ragazzi veramente bello bello adesso diamo un'occhiata a una cosa che non vi ho fatto vedere sollevatori 6m in questo caso minuti di sollevatore anteriore e pto il retro del 7r 8rx è tutto molto simile ragazzi tutto molto uguale qua ragazzi se venite a fare un salto ormai è finita era il 30 di novembre ci sono i giorni era perdita d'occhio e non solo jcb telescopici cramer veramente tanta tanta roba e niente io mi faccio un'altra do un'altra occhiata a tutto e e si va qua certi mi tenono di quelle occhiate perché sto parlando da solo ma l'importante ragazzi è fregarsene nei limiti del rispetto di tutti bene bene adesso andiamo a vedere se c'è qualcos'altro interessante e se no andiamo con le conclusioni del video eccoci qua ragazzi alla fine del video e davanti al mio John Deere 8r allora ho voluto fare questo video così anche per portare qualcosa di diverso spero vi sia piaciuta l'idea magari in altri eventi e così via si potrà fare anche meglio è stata una cosa super improvvisata perché ho deciso di andare a a vederli appunto andare lì nella sede di Agribertocchi all'ultimo e soprattutto non avevo neanche intenzione di fare un video ma ho visto lì che c'erano gli 8rx gli 8r i 7r ho detto come si fa a non fare un video mi son detto allora l'ho fatto molto improvvisato ci saranno state delle inesattezze qualcosa corretto al video non è un video non è sicuramente un video per dirvi tutte le informazioni tecniche specifiche alla perfezione per quello ci sono i siti John Deere e testate giornalistiche però se qualche giornale rivista azienda vuole ingaggiarmi per farvi la recensione perfetta io sono qua non mi tiro indietro davanti a niente detto questo ragazzi allora siete stati veramente in tanti a chiedervi allora questi nuovi 8r 7r ti piacciono e così via allora dalle foto insomma ero un po' titubante visti dal vivo mi piacciono già di più mi hanno già fatto una migliore impressione e certo che però devo dire che a livello estetico non perché ce l'ho queste forme arrotondate un po' più classiche mi piacciono molto di più non è che quelli là mi fanno schifo però mi piace ancora di più questo non è che è uscito il nuovo 8rx il nuovo 8r ho detto oddio batte il mio lo vorrei subito che bello che bello che bello no però ragazzi quanto al lato estetico sono rimasto deluso su certe cose come ero rimasto deluso per l'8400r che montava ancora il 9000 di cilindrata su 400 e passa cavalli sia 8r che 8rx sono rimasti con il solito 9000 modificato sì nell'elettronica modificato sì nei turbocompressori ma ragazzi a mio parere il 9000 va bene fino al 340 giù di lì 340 cavalli sono giusti per un 9000 rapporto cilindrata potenza per non far stressare il motore per avere un'ottima riserva di coppia un 9000 con 410 cavalli che vanno fino a 450 e passa con extra power io il 9000 non ce lo vedo ragazzi mi dispiace è una mia opinione e no lì lì non ci siamo dopo mi aspettavo di altre modifiche no è stato introdotto il command pro su fino al 340 cavalli da quel che mi è stato detto circa o il 370 ragazzi però però insomma siamo sempre lì c'è stata una bella rivoluzione estetica quanto ha la sostanza quello che interessa a noi insomma insomma io sinceramente sul RX 410 mi aspettavo un 12000 ragazzi almeno un 10100 una roba del genere no invece non sono stato accontentato dopo cosa che mi sono dimenticato di dirvi che parlavo nel video di allestimenti e così via vi devo dire che tutte le 3 macchine che abbiamo visto erano allestite con il pacchetto premium appunto allestimenti che si dividono in select select plus e premium cosa comprendono questi pacchetti fari funzioni e comfort in cabina e materiali infatti la select plus e la premium hanno il sedile in pelle e i fari a led la premium ha il sedile massaggiante per quello ragazzi che l'ho trovato già più comodo il sedile è molto migliorato è sicuramente superiore a questo che ho io c'è il sedile massaggiante riscaldante rinfrescante insomma vabbè il lusso Rolls Royce dei trattori praticamente e dopo abbiamo il select che è il più basso con un sedile in tessuto volante in plastica i fari probabilmente alogeni e così via dopo avevo fatto un appunto al sollevatore frontale la forge dell'RX e indubbiamente a mio parere è inferiore perché qua abbiamo un blocco unico in fusione di ghisa senza neanche una saldatura tutto fuso saldature solo presenti qua invece là è tutto uno scatolato d'acciaio sì molto spesso ma tutto saldato mi dà un senso di minore robustezza certo non è che appena si attacca una cosa si spacca e sicuramente a confronto dei sollevatori del 6M frontali del 6M del 7R e anche di tutta la concorrenza ragazzi perché sollevatori del genere io sono sempre molto oggettivo su quello che dico su quello che faccio le mie opinioni le do sempre guardando tutto e con molta oggettività dovete essere onesti anche i cari fendisti i Massey Ferguson lovers e tutta quella roba lì insomma dovete dire che sollevatori frontali con una struttura del genere se ne vedono ben pochi perché dal Massey Ferguson al 7R tutti i sollevatori abbastanza ridicoli sul frontale proprio un porta zavorra più comodo non è un porta attrezzi questo è il vero porta attrezzi a mio parere dopo anche cosa che mi ha deluso lì su 8RX di quel sollevatore i bottoncini con un lamierino bottoncini tondi stili Fender 926 con il lamierino che si vedeva dietro i cavi vabbè niente ragazzi queste sono le mie opinioni spero che il video vi sia piaciuto se ne volete altri tanti like ragazzi ditemi la vostra su questi nuovi 6M 8R 8RX 7R qua nei commenti il 6M come visibilità mi è piaciuto parecchio se avessi avuto una sale e qualche altro piccolo dettaglio sarebbe stata una macchina veramente a prendere in considerazione peccato anche per la cilindrata potevamo mettere su un 5500 al posto del 4500 insomma 130 cavalli e anche 6 cilindri vabbè sto sognando ragazzi ormai i 6 cilindri su 100 cavalli ce li dobbiamo scordare niente ragazzi fatemi sapere anche la vostra e noi ci vediamo nel prossimo vlog il tempo sta cambiando per fortuna è già una settimana che fa sole sto aspettando ancora qualche giorno per non infangarmi a poter seminare ragazzi incrociamo le dita speriamo bene riuscire a fare tutti i lavori ho avuto un sacco di problemi ed è per questo che settimana scorsa non sono usciti i video ragazzi io vi saluto e vi ringrazio vi invito ad iscrivervi al canale a seguirmi su instagram e niente noi ci vediamo nel prossimo vlog ciao ciao Grazie a tutti